Adesso le chiedo io una cosa personale. C'è un sito che è molto più interessato al fatto che io porti o meno le calze che siano a rete, che siano trasparenti, che siano nere, rispetto a quello che si dice. Siccome i commenti a volte sono anche un po' pesanti, si può fare qualcosa? Un sito? Un sito, poi glielo faccio vedere. E sull'online, quindi su internet. Riferito direttamente alla sua persona? Allora facciamo vedere che le calze ci sono, così almeno si calmano tutti. Si può fare qualcosa in questo caso? Se si riesce a individuare colui che attraverso il sito proferisce delle frasi ingiuriose o comunque che possano turbare la sua serenità, lei può querelarlo o perlomeno se la può prendere con il sito che consente questo uso non lecito di internet. Perfetto, quindi le persone a cui bisognava mandare questo messaggio sicuramente l'hanno recepito perché vengono assolutamente sempre aggiornati in tempo reale e quindi abbiamo lanciato anche il nostro messaggio. Prima di passare alla prossima telefonata dico soltanto una cosa sempre in merito a un discorso che abbiamo iniziato nell'ora precedente di NordOvest.tv Scusa, accettate.